Eccoci qua, vediamo se siamo pronti per questa diretta, vi dico, aspettate qua perché il Instagram non funziona. Vabbè, che dobbiamo fare? Se Instagram non funziona non ci posso fare nulla e quello che posso fare invece è fare su questa diretta di Facebook, posso cercare di capire che cosa commentano i giornali, aspettate che qui Instagram voglio assolutamente provare a farlo, termina ora, elimina il video, scusate, ma fra poco arriviamo perché oggi ce n'è da raccontare veramente di tutti i colori, su quello che sta succedendo sui giornali e su quella che è stata la conferenza stampa di ieri di Conte. Allora, iniziamo questa diretta, chi se ne frega se su Instagram a questo punto non funziona, ogni giorno ce n'è una, adesso ho adottato oggi il telefonino per fare la rassegna stampa sul Facebook, mentre Instagram non ce la farò. oggi che dobbiamo fare. Allora, Facebook è solo l'unico mezzo di oggi, poi dopo metterò su Instagram, va bene. Allora, la cosa incredibile che è successa ieri sera, per essere molto tranquilli, molto tranquilli, anche se io ieri sera non lo ero affatto dopo aver visto la conferenza stampa di Conte, io mi chiedo come facciano i giornali di oggi essere altrettanto tranquilli. Sapete che cosa è successo ieri? Ieri è successa una cosa semplicissima nella sua gravità, anzi drammatica. Ieri sono morte 100.000, 200.000, 300.000 piccole imprese. Ieri sono morti decine e centinaia di parrucchieri, centinaia di estetisti, centinaia di bar, centinaia di ristoratori, ai quali questa genialata, e non lo trovo oggi sui giornali questo ragionamento, ai quali questa genialata che ha fatto Conte, cioè di chiudere e mantenere tutto sostanzialmente chiuso, gli esercizi commerciali, negozi, turismo, cioè le persone normali, lui impressionato dai like su Facebook che riceve insieme a Casalino, è pronto al suo partito perché è evidente che quella sua follia tecnocratica deriva da quello, la sua incredibile follia tecnocratica e presuntuosa, narcisistica deriva da questo, Beh, insomma, quello che è successo è che ieri sono morte migliaia di imprese italiane e sapete che cosa facciamo? Ogni mese paghiamo 13 miliardi di cassa integrazione tutti noi italiani per far sì che loro rimangano chiuse mentre loro oggi potrebbero essere aperte. Questo ragionamento lo trovate sui giornali di oggi? No, non lo trovate sui giornali di oggi. Sentite come titolo il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è diventato forse il giornale più imbarazzante di tutti, ma si è normalizzato anche Repubblica attraverso l'eterogenesi dei fini, gli Alcanna hanno spostato il contestatore Verdelli, la sinistra piuttosta, quella che criticava anche questo governo e hanno normalizzato con un atlantista e centrista e per me anche ottimo giornalista come Molinari che ha ammosciato completamente Repubblica. Il Fatto Quotidiano, lo sapete bene, è il giornale di Conte, quindi insomma il panorama dei giornali è questo, si riapre con regole e divieti. Ma come si riapre? Ragazzi, è una presa per i fondelli. Noi, le nostre libertà non sono per niente rieperte. Hanno aggiunto semplicemente una riga, cosa che non spiegano con chiarezza nelle prime pagine dei giornali, hanno aggiunto soltanto una riga all'autocertificazione. La nuova autocertificazione avrà una riga in più e cioè che possiamo andare a cercare e trovare i nostri parenti, cosa incredibile, nelle nostre città. Si riparte con il freno a mano, titola, e questo è tutto quello che può titolare il Fatto Quotidiano, con il freno a mano, vai avanti. Sfida al virus, l'Italia riapre, questo è il titolo di Repubblica. Io consiglio ai miei amici commercianti, ai miei amici baristi, ai miei amici ristoratori di fare una cosa molto semplice, pensare, quando spendono due euro per comprare nelle idicole che sono sempre state aperte, cosa vuol dire questo titolo di Repubblica? Si sfida al virus, l'Italia riapre. Cioè, vi sentite rappresentati da questo titolo? Pensate che questo è quello che sta avvenendo. Con quale coraggio un giornalista col culetto al caldo nei nostri redazioni in cui veniamo pagati possa scrivere Italia riapre? Ieri ci voleva una grande croce, riposino in pace migliaia di aziende che grazie a Conte e al Comitato Tecnico Scientifico, che potrebbero aprire in sicurezza, non apriranno fino al 1 giugno. Toc toc! Gli uffici pubblici, secondo il vecchio decreto, dovevano essere chiusi fino al 1 luglio. Prenderanno esattamente gli stessi soldi che prendevano prima, a differenza dei negozi, dei barbieri, degli NCC, degli autonomi, dei professionisti, dei privati che lavorano nella cassa integrazione. È cambiato qualcosa? È una curiosità che chiedo anche alla mia redazione per capire questa sera a Quarta Repubblica se, ad esempio, i dipendenti pubblici che erano a casa a lavorare fino al 1 luglio, perché sono chiusi gli uffici pubblici, se non le questioni essenziali, siano ancora a casa. È tutto per sapere. Fase 2, secondo me, i titoli che vanno su un'altra parte sono Mi stupisco del mattino, ad esempio. Il mattino fa un pezzo, un titolo, nonostante il giornale sia quello del messaggero, molto rassicurante. Il mattino, che è dello stesso gruppo editoriale, con gli stessi fondi, però il mattino fa un titolo sacrosanto. Fase 2, più divieti che permessi. Più divieti che permessi. Ovviamente Sallusti non può non rilevare come questa, più che una fase 2, sia una fase 1 e mezzo. Dice, mezzo passo alla volta, non si va lontano, scrive Sallusti, aprire tutto con regole certe. Questo è il punto, perché molti di voi dicono che cosa si potrebbe fare? Io vi dico, aprire tutto. Avete rotto le scatole. Questo virus si combatte negli ospedali, nell'organizzazione, con le cure. Non si combatte uccidendo commercialmente milioni di italiani. Le tasse servono per pagare gli ospedali. Se non ci sono imprese, non saranno Conte e i suoi like su Facebook. Non sarà Casalino e le sue telefonate alle redazioni a risolvere il problema degli ospedali. E' chiaro questo? Probabilmente non è del tutto chiaro, perché noi ce ne sbattiamo le palle, evidentemente. Perché questi invisibili, già erano invisibili oggi, ieri, lo saranno anche domani. Morti invisibili, per cui non ci saranno giornali e pensosi fondi che ce lo racconteranno. Ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto che sul Corriere della Sera, che titolo si riapre con regole di vieti? Cioè, già è una assurda lettura della vicenda, perché quella del mattino mi sembra giusta, fase 2, più di vieti che permessi, che sono due temi completamente diversi. Il fondo del Corriere della Sera è di Paolo Mieli sulle responsabilità della Cina. Cioè, Paolo Mieli oggi è il fondo del Corriere della Sera. Ma questi dove vivono? Tutti a casa della signora Crespi? Ma dove vivono? Luciano Fantana, che è un grande direttore, una brava persona, moderata, garbata, intelligente, che proviene dal Partito Comunista, che conosce il popolo, almeno così mi immagino. Ma si rende conto che il bar di Via Solferino non riapre, probabilmente? Si rende conto che il rigolo probabilmente non riapre? Non me la auguro che riapra, ma non riapre. Si rende conto che il suo parrucchiere probabilmente non riapre? Non se ne rendono conto i giornalisti del mondo che ci sta accanto, del fatto che stiamo spendendo 13 miliardi di cassa integrazione per tenere in respirazione morti che saranno morti da luglio. Ma dobbiamo aprire tutto subito. Ma quando tu apri il commercio all'ingrosso e non apri il commercio al dettaglio, ma chi è che andrà a comprare? Chi? Cosa compreremo? Non c'è un giornale, se non forse Yuri Maria Prado, che io ringrazio per il suo pezzo, perché è un pezzo sul Libero molto... È l'unico che prende un altro lato, che a me ieri sera mi ha molto impressionato, no? Quello di dire vi consentiamo, non vi azzardate, non è un liberi tutti, posto che vi è del tutto chiaro che non è un Presidente del Consiglio che ci concede la libertà, non è un Presidente del Consiglio che ci concede la possibilità di uscire, la circolazione, la libertà del culto. Ce l'hanno concesso i nostri padri, che a differenza del Presidente del Consiglio, i nostri nonni, a differenza del Presidente del Consiglio, forse parlavano meno bene il Presidente del Consiglio, ma hanno combattuto la guerra, chiaro? E hanno rifatto questo paese, Conte non ha rifatto nulla di questo paese, forse ha utilizzato il piano casa di Berlusconi per rifarsi la billetta a Foggia, ma per il resto questo paese non l'ha ricostruito a lui, lo sta distruggendo con quelli che ci stanno governando oggi. Io mi immagino le riunioni, no? Mi immagino le riunioni col Comitato Tecnico Scientifico, tutte persone che non sanno neanche che cosa sia un bar, perché probabilmente se lo fanno portare il caffè anche nel proprio ministero, o nella propria aula universitaria. Colau, il manager da 8 milioni di sterline, e poi c'ho là gli addetti stampa, il professore Giovannini, grandissimo personaggio, il macroeconomista, il virologo che nei laboratori non ce lo vogliono perché non ha mai visto un virus in vita sua, tutti là che pensano come rimettiamo, eccetera, e che solo pensano di distruggere questo paese, ma non lo fanno con cattiveria, lo fanno per ignoranza, non lo conoscono questo paese, non sanno da che cosa è fatto, perché nella loro vita il culo ce l'hanno sempre avuto sopra il burretto, come tutti noi. Io di fatti non dovrei mai governare un paese, perché non ho la più pallida idea di quello che succede, ma facciamo governare a qualcuno che ha un minimo, un minimo di adesione alla realtà. Conte si tiene i pieni poteri, titola libero, complimenti, è il titolo migliore, secondo me, di tutti i giornali oggi, perché coglie un aspetto di libertà che gli altri non colgono, e cioè quello che scrive Iuri Maria Padro, il paese dei privilegi ha dato il via libera al colpetto di Stato, che è quello che è avvenuto ieri, il colpetto di Stato. Mi viene da ridere quando pensano, vi ricordate, ai pieni poteri di Salvini, qua tutta sta sinistra zitta e muta, dove è finita la sinistra? Dove sono finiti i libertari? Dove sono finiti quelli che i costituzionalisti? Oggi Cassese, sul Tempo, fa un'intervista favolosa in cui ci spiega esattamente come stanno violando le nostre libertà in modo anticostituzionale, ma non è l'unico, c'è un'intervista di P.G. Battista che dice la tecnocrazia sanitaria mi fa paura, intervistato oggi da Alessandro Ricco sul Libero, mi sembra. Bello, bellissimo il pezzo di l'intervista di Cardini, ve la segnalo, dov'è che l'ho segnata? Da qualche parte l'ho segnata qua. Un'intervista fantastica allo storico Cardini che intanto dice le statistiche sulla mortalità è molto bassa, dice lui. Dice tutte le grandi epidemie se ne sono andate via da sole, anche in periodi in cui c'era molta meno ricerca scientifica di oggi. I virologi, dice Cardini, sul quotidiano nazionale, fanno il terrorismo degli annunci, fanno il terrorismo degli annunci, e l'altra cosa, Conte, è più... Su Conte dice una cosa che scrive anche oggi, in prima pagina, Repubblica, con Tito, e cioè che chi gestisce l'emergenza difficilmente riesce a ricostruire la ricostruzione, come Churchill, che è un paragone che piacerà molto a Conte, ha gestito la guerra, ma non il dopoguerra. Questo è Cardini. Ma poi ci sono altre questioni di dettaglio sulla questione di Ioni. Vengono aperte le attività manifatturiere e i cantieri, si potranno visitare i parenti stretti, non ci saranno le messe, e lì i vescovi si arrabbiano, ma i vescovi hanno torto. Perché hanno torto i vescovi? Perché i vescovi hanno perso la loro libertà di culto quando hanno accettato di non celebrare la Pasqua. Io non penso, come il titolo di oggi, la Chiesa rompe con Conte del tempo. La Chiesa, ve lo garantisco, con Conte, fra una settimana, faccia l'accordo. Perché la classe dirigente della nostra Chiesa, la classe dirigente della nostra Chiesa, è altrettanto pavida. Cosa che non sono i comunisti e i rifondaroli che sono andati in piazza a celebrare la liberazione fottendosene dei divieti, mentre la nostra Chiesa ha ceduto il passo al governo Conte. Una Chiesa che accetta di non celebrare la Pasqua, è morta! Perché non può, non è possibile, non è nel suo DNA, potete inventarvi quello che volete. Conte e i suoi tecnici, laici, del comitato tecnico-scientifico, sanno la cosa che vi ho detto dal primo giorno, la libertà è facile perderla, è difficile riconquistarla. Quando la Chiesa accetta di non celebrare la Messa della Santa Pasqua, magari con dieci persone, magari con quindici, magari distanziate, è morta. Finisce lì. Riconquistare la sua libertà di culto sarà complicata. Voglio vedere se le altre religioni l'hanno ceduta con tanta facilità. Tenerezza nei confronti di questi Vescovi che oggi pegnucolano? Zero! A differenza ovviamente del tempo che dice che la Chiesa rompe con Conte. Lo farà, ma vedrete che farà un accordo e si troverà un modo per andare a Messa nelle prossime settimane, perché ci sarà il nuovo protocollo. L'altra questione che racconta benissimo Capezzone oggi, questa fase 2 è complicatissima, non la sta capendo nessuno. Questo è l'altro elemento fondamentale. È del tutto incomprensibile, è tanto più incomprensibile quanto più ci sono protocolli su protocolli, e distanze, e cambiamenti, e dpcm, e norme incasinatissime. E ha ragione Capezzone, e poi c'è dopo il Corriere della Sera, dopo un pezzo inutile di Mieli sulla Cina, cioè condivisibile ma totalmente inutile nel giorno in cui si parla della riapertura, quelli ci fanno il pezzo sulla Cina, che sono due mesi che parliamo dell'opacità della Cina, adesso ci arriva Mieli, che sembra che viva sulla Luna, e che si accorge oggi che è il fondo del Corriere della Sera. Fontana, oggi il fondo lo facciamo sulla Cina, sul Corriere della Sera. Facciamolo una settimana fa, un mese fa, facciamolo anche domani, ma nel giorno in cui c'è la conferenza stampa di Conte, il titolo del Corriere della Sera è, si riapre con regole di Mieli, e il fondo lo fa Mieli. E l'altra, diciamo, colonnino di prima pagina, è dedicato a Paolo Giordano, il grande Paolo Giordano, che ci mette quel paura giustissima, hanno fatto bene a One, dove veramente hanno chiuso, non come voi, eh? e poi dice, il contagio è vispo, state attenti, perché il contagio è vispo, voi che volete continuare a lavorare. Bene, bene, bravo Paolo Giordano, i tuoi libri poi ce li compriamo tutti quanti, dopo aver comprato la brioche. Nel frattempo, il governo decide ieri di portare a 50 centesimi il prezzo delle mascherine, e ragazzi, anche su questo, tutti quanti voi, che siete tutti, poi alcuni di voi mi seguono, sono liberali, altri ma sono destri, sociali, altri saranno pure di sinistra, però il fatto di imporre un prezzo delle mascherine per legge, cosa che tutti voi dicevate, le speculazioni, eccetera, è una stronzata. Dire che le mascherine costano 50 centesimi, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che le mascherine non le troveremo più, o ne troveremo di pessima qualità, non esiste un prezzo fissato per legge, un prezzo preciso, puntuale, fissato per legge, esiste nella mosca dell'Unione Sovietica. Decidere che le mascherine costano 50 centesimi, solletica soltanto lo spirito più basso della pancia statalista di questo paese. Si tratta di una follia. Certo, il governo vuole aiutare le mascherine perché le rende obbligatorie, non obbliga i privati a venderle a 50 centesimi, obbliga se stesso, come ha fatto, a non prendere le tasse sulle mascherine. Questa è cosa buona e giusta, può controllare che non si facciano delle truffe sulle mascherine, può controllare che la distribuzione, ma obbligare un prezzo sulle mascherine, voi siete tutti contenti, è una stronzata. Sblocca, dice ieri paese. Nel momento in cui il paese viene bloccato, viene da ridere a tutti quanti che ieri Conte parla dello sblocca paese. Lo fa e lo racconta bene, ma ciò c'è sulla prima pagina del giornale, perché è una contraddizione in termini. Sblocchi il paese quando lo blocchi e quando metti tutta una serie di protocolli sanitari che bloccheranno qualsiasi impresa. Straordinaria questa roba dei kit sierologici, perché oggi Lorenzo Salvia, sul Corriere della Sera, si accorge che ieri, l'aveva scritto lui, come tutti gli altri giornali, a vincere Arcuri, questo personaggio mitologico che non si riesca a capire bene che cosa faccia, dovrebbe trovare mascherine e non le trova, dovrebbe trovare i test sierologici e l'ha trovato. E fa vincere l'americana Abbott contro l'italiana Dio Sorin, liberale come me, dico bene, vinca il migliore, chi se ne frega, perché era migliore la Abbott, era migliore rispetto all'italiana, che poi è controllata da fondi americani, perché era migliore, e poi la Dio Sorin è utilizzata già in Lombardia e quindi non andava bene, perché sicuramente Arcuri deve mettere, no, deve fare come i cani sul proprio terreno, è chiaro? Cosa deve fare sul proprio terreno? L'Abbott americana vince, sapete perché? Perché ci regala 150.000 test gratis. Io devo dire la verità, se tu fai una gara e quello ti offre un prodotto gratis, è del tutto evidente che tu ce l'hai quel prodotto, lo trovi a un prezzo inferiore, se puoi fare questi 150.000 tamponi, che peraltro mi sembrano pochissimi rispetto alle necessità. E poi oggi che cosa scopriamo? Che ho quello che era evidente, e cioè che perché l'Abbott ti dà 150.000 test sierologici gratis? Perché poi verrà a commercializzare 4 milioni di test a pagamento e privatamente in Italia. Cioè ha utilizzato la gara del ministero di quel genio di Arcuri, che nella vita sua è stato sempre un boiardo pubblico, quel genio di Arcuri fa perdere Dio Sorin, fa vincere Abbott, perché Abbott gli dà la roba gratis e poi quanto gli dà gratis così, 150.000, il resto a pagamento, una genialata, complimenti. Mascherine arrivate? No. Aziende autorizzate? No. Test sierologici per tutti gli italiani? No. Abbiamo preso gli americani? Sì. E' gratis? No. Finta gratis e poi ce la fa pagare. Un genio! Un genio! Conte, Arcuri, Colao, Rezza, Ricciardi, la grande classe dirigente che ha deciso ieri sera che centinaia di migliaia di aziende devono morire, anzi stanno morendo, perché c'è l'ipotesi che il virus li ammazzi. E questo bisogna drammatizzarlo il più possibile. Nonostante migliaia di virologi, migliaia di virologi dicono che la curva è scesa, che i contagi stanno scendendo, che c'è la possibilità di lavorare in sicurezza. No. Il lockdown continua, ma i nostri giornali non se ne accorgono. Ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica, più moderato di quanto sonoro, però quello spirito guerrier che entro mi rugge, diciamo così, è una citazione un po' presuntuosa, però quello spirito guerrier che entro mi rugge lo devo placare nelle prossime 12 ore se non mi cacciano. Ciao.